azione buonasera a tutti Ruggero 24 via ci troviamo nell'errore della presto... non è della presto... la storia... sai i maghi... le persone che... i pastori... deve riuscire ai giochi... allora... gli alza la voce... dice un ragazzo che vuole diventare... questa è la festeggiata si voti lì... mamma mia... la regina... questa carta... dici... dici... poteva fare sesso con la regina... ua non si fanno disperati dalla foresta... dici... 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 io voglio avere un approccio con la regina... sono io la regina... dici... 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 porta questo obuscolino... nel momento del bisogno... lo userei... però... guardate... attenzione... hanno accinato... ma... la lega... diceva... ti ha cacciato la prima volta... mi ha dato un'altra possibilità... gli dicevano... guardia... guarda la regina, guarda la regina la regina, non facendo la sinistra la regina diceva che non è un drago per favore guarda un po' seconda mettiamo la salta qui sopra la regina si conviene tu dici va più, mettiti sopra allora si mette la regina sopra come si asciuga la mia cosa io voglio una peggio che non è voluta girare la duccia è bella e allungava 5 centimi con la luce oh 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 la duccia è bella la duccia è bella non mi stai piacendo tanto la duccia è bella 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 la regina guarda aiutatemi toglietemi il coso di questo bastardo dalle gambe se vuoi non dici faccio la regina le ginocchia non mi ha detto dovremmo la pagina e accendere la regina la regina bene on ok è un piscatore